www.feyyaz.com c'è lì, è lì, è lì vai, vai, vai avanti, vai avanti si, va bene, tanto si ferma, non c'è nessun problema e poi anche loro vanno a rischio perché con tutti questi alberi, con tutte queste cose eh, perché guarda che lì sei a filo, eh da una parte c'hai, va bene che sono arbusti con le taglia, ma... eh, lo so, ma... prende un ramo fermati pure sono un bel grazie neanche a voi che becké buona e che non ci siano statoli in giro adesso va di manetta, è di fatto variabile e che non ci siano stati e che non ci siano stati